Certe volte non si riesce a capire se è meglio partire dalla politica o dall'economia. Francamente le cose vanno male in tutti i settori. Se partiamo dal punto di vista economico, sociale, di quello che sta per arrivarci addosso, lo vediamo già nei primordi relativamente alle bollette, l'aumento dell'energia. Probabilmente arriveremo a un autunno-inverno in cui davvero le aziende, le piccole aziende, chiuderanno i ristoranti, le piccole imprese, tutta la filiera di produttività italiana che verrà colpita drasticamente da queste scelte energetiche folli dovute a una politica estera basata sul seguire il filoatlantismo, sul seguire il più armi e sanzioni che hanno di fatto privato il nostro paese di risorse energetiche reali. Quindi andremo di fronte a un inverno-autunno in cui ci saranno licenziamenti, in cui ci saranno tensioni sociali, in cui ci sarà davvero la gente che non arriva alla fine del mese, non sa come campare. Dall'altra parte c'è questa politica, una politica davvero incredibile. Avete visto il mercimonio tra calenda e letta, avete visto tutte le vicende che hanno colpito anche adesso il Partito Democratico Romano, quello della Capitale con Gentaglia che fa delle cose incredibili. Ebbene, questa è la politica. Dall'altra parte non è che ci sia una politica molto diversa, l'odio tra Salvini e Lameloni è palese, l'idea, la prospettiva anche di tipo economico, di tipo sociale che ha Lameloni è molto più filoatlantista dello stesso Draghi. Quindi insomma stiamo andando davvero verso un periodo molto difficile. Ci sono le votazioni e qua qualcuno prova a dire, io non credo che siano dei nemici, asteniamoci, non votiamo. Noi come Italia Sovrana e Popolare abbiamo provato a unire 15 organizzazioni, a metterci assieme e abbiamo provato anche a fare un appello unitario il più possibile, ma certamente non consideriamo nemici quelli che fanno altre scelte, altre liste, quelli che non votano. Il nostro nemico è Draghi, il nostro nemico è il sistema. Però vorrei dire a quelli che si vogliono astenere, riflettete su un fatto, questo potere collegato alla grande finanza, alla grande economia, ha voluto fare le elezioni in piena estate perché hanno paura, hanno paura che arrivino delle forze che rappresentano davvero l'opposizione, il dissenso in questo paese e hanno fatto fare tutto ad agosto, tutto a ferragosto. Riflettete su questo, forse vogliono che ci asteniamo, invece andiamo a votare questa volta e mettiamogliela in quel posto.